Cos'è quella roba che quando è rasata ti fa star bene in tutti i posti e quando è piena di peli a noi ci sta sulle palle. Pottiamoli senza regole. Se ti danno fastidio allora te li sputi fuori. Pensate a tutte le volte che mi è capitato a me. Mi piace la figa rasata. Oramai mia moglie viene dentro in camera solo se c'ha il rasoio per forza. Comunque per me serve. Grazie. 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 Grazie.